Nuovo appuntamento per la rassegna con le parole giuste, le parole della giustizia, nella filosofia, nella letteratura e nella società. Tanti gli ospiti e i nomi importanti per la quarta edizione dell'iniziativa, dedicata alla riflessione su alcune parole chiave, che in ambito giudiziario hanno un significato, ma che in altri settori assumono senso e peso diversi. Attraverso racconti di vita ed esperienze sul campo si parlerà di popoli senza confini e scontri tra civiltà, di parriere da battere ed ostacoli da superare, spunti di riflessione e momenti di dialogo per provare, insieme ad andare oltre i tradizionali confini geografici e culturali. Saranno questi alcuni dei temi che verranno affrontati durante l'incontro pubblico con Roberta Biaggiarelli, nata a Fano, è attrice, autrice, documentarista e progettista teatrale. Sarà Roberta Biaggiarelli, artista nota a livello nazionale e internazionale, che proverà a declinare una nuova parola, confine, per spiegare il tema della giustizia, che è il filo conduttore della rassegna con le parole giuste. Un appuntamento che riproponiamo, questa volta cercando di cogliere quelli che sono le contraddizioni e i rischi dei confini materiali e immateriali, con un occhio di riguardo in particolare a quella che è stata la vicenda dei conflitti nell'area dell'ex Jugoslavia. L'appuntamento è la Mediateca Montanari, mercoledì 18 marzo alle ore 18. Sarà presente Roberta Biaggiarelli, i magistrati dell'Associazione Nazionale Magistrati, intervistati dalla giornalista Sabrina Goviz.